ecco poi c'è la domanda molto interessante il primo webinar sono stata incuriosita se ci vorrei approfondire il modo di allenare la concentrazione e di ritornare in modo consapevole al focus ma allora la concentrazione sicuramente si può allenare secondo me lo stimolo alla concentrazione parte dalla qualità del mio obiettivo cioè se io ho un obiettivo importante sono più stimolato a essere concentrato questo è un punto abbastanza importante poi la concentrazione si può allenare con le tecniche mentali ci si può adiuvare con il respiro ci può aiutare con l'alimentazione a partire dall'acqua a partire da magari una serie di integratori piuttosto che miscele galvaniche piuttosto che infusi particolari che possono aiutare lo stato di concentrazione i famosi alimenti cioè tutta una serie di nutrienti che ovviamente possono aiutare a performare secondo la mia esperienza io noto che devo fare un tuffo nel mio mondo una tecnica che può aiutare un atleta a migliorare la concentrazione è come dicevo l'obiettivo e la motivazione perché se hai un obiettivo e hai una motivazione la concentrazione ce l'hai se non è l'obiettivo e non è la motivazione è più facile distrarsi perché non hai un motivo non hai una profonda motivazione interna che ti porta al perseguimento di quell'obiettivo e quindi tenti a distrarti perché trovi più gratificazione in qualcosa che ti distrae rispetto a quello cui dovresti porre l'attenzione reputo che sia un processo abbastanza fisiologico perché se noi ci distraiamo a guardare il telefonino ci stiamo annoiando se ci stiamo annoiando cerchiamo di portare la concentrazione altrove perché il rilascio di dopamina ci fa star bene e quindi ci distraiamo quindi primo punto eliminare tutte le fonti di distrazioni possibili questo è una cosa abbastanza semplice però di base deve avere una forte motivazione in quello che stai facendo perché 30 ti lasci distrarre da alcune dipendenze tossiche che possono essere il telefonino facebook i device tecnologici e altro secondo punto da puntista pratico a mio avviso le tecniche mentali di meditazione di visualizzazioni sono un se praticate con costanza allenano la mente per aumentare il livello di concentrazione perché inevitabilmente qualsiasi di noi che fa un esercizio di meditazione o di visualizzazione dopo un minuto 50 secondi due minuti tende a distrarti cioè tende ad aprire quel file e devo mandare la mail devo comprare il vestito devo 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 la concentrazione diventa allenante quando tu hai la capacità di ritornare su quel pensiero cui ti stavi concentrando quindi il rientro è allenamento e questo porta a una implementazione della capacità di concentrazione è chiaro che noi non è che siamo in grado di rimanere concentrati 24 ore su 24 perché 30 saremmo dei computer e non sarebbe fattibile io ho trovato per la mia di attività nella forma dell'apnea statica ma non apnea statica volta la performance cioè il fatto di trattenere il fiato mi ha aiutato nella la mia vita extra apnea a rimanere focalizzato l'apnea statica è una disciplina dove in gergo sportivo vince chi trattiene più il fiato e qui lì va bene ma non ce ne frega niente l'apnea statica come modello di allenamento viene è stato utilizzato anche dall'inventore giapponese più più famoso al mondo che ha a suo carico più di 6.000 brevetti il quale utilizza le tecniche di apnea per aumentare il focusing ne parlo nel libro la scienza del respiro dove è interessantissimo questo giapponese adesso mi sfugge il nome perdonatemi che ha a suo carico appunto migliaia di brevetti e lui si tuffa in piscina facendo apnea statica perché ha visto che aumentava il focus è la concentrazione e qui mi ritrovo molto su questa tipologia di allenamento mentale ma non attenzione non volto la performance non che vince chi fa più tempo quello è agonismo è un altro discorso ma l'essere umano normalmente quando vuole aumentare la concentrazione tende ad andare in apnea allora allenare questo meccanismo in maniera consapevole diventa rinforzante per quando lo fa in maniera inconsapevole e quindi semplici esercizi di apnea ripeto non grandi cose ma una tabella molto semplice potrebbe essere per esempio sto inventando è prendetela con le pinze perché ovviamente è un rifrento su di me in questo momento della mia vita per esempio fare un minuto di apnea da fermo uno può dire ammazza che schiappa che sei ma non parliamo di performance parliamo proprio di lavoro specifico per la concentrazione un minuto di apnea da fermo 15 secondi di respiro un altro minuto di apnea da fermo è ripetuto otto volte e beh vi potete rendere conto che se questa apnea ci porta a fare un minimo di fatica non bisogna morire un minimo di fatica gestibile non che non deve essere troppo facile ma neanche troppo impegnativo ci permette di acquisire una certa sensibilità su noi sulla mente sul corpo e devo dire che questi aspetti applicati anche con atleti mi ha dato benefici su quella che è la capacità di migliorare la concentrazione perché ti aumenta anche il livello di sensibilità questa è una mia esperienza personale quindi la apnea forzata vista come miglioramento anche della concentrazione sì esattamente esattamente perché perché ti rendi conto che comunque in quel mentre se devi fare che ne so anche 30 secondi che può essere tanto poco ma mettiamo che sia tanto 30 secondi e ti devi forzare ad avere una forte concentrazione sul tuo corpo sulla tua mente sulle tue sensazioni devi imparare a dire quello che dicevamo prima a rilassarti a rilassarti nel mondo giusto a saperti concentrare nel mondo giusto quindi sicuramente aumenta il tuo self talk aumenta devi aumentare il tuo stato di flow e quindi per forza devi lavorare su questi aspetti che poi sono quelli che sono un po i cardini della concentrazione perché quando sei nel tuo stato di flow sei in simbiosi con te stesso picco di concentrazione per cui non hai stimoli distraenti oppure altro aspetto allenante è aumentare gli stimoli distraenti cioè fare dei lavori dove hai degli stimoli molto distraenti e tu devi rimanere focalizzato quello che stai facendo questo è un altro tipo di allenamento avete chiesto la concentrazione vedete questi sono degli appunti che io mi sono fatto evitare la distrazione lavorare con la distrazione l'acqua quindi lavorare con l'acqua l'acqua inteso dire come idratazione alcuni alimenti fiocchi d'avena cereali integrali cioccolato fondente salmone omega 3 lavorano sulle sinapsi del cervello quindi le uova perché le uova contengono la colina che agisce sulle membrane delle cellule cerebrali cioè ci sono degli alimenti che possono migliorare adesso non è che mi trasformano però esistono dei libri molto interessanti che parlano appunto degli alimenti cioè degli alimentazione specifica per potenziare le capacità neurocerebrali appunto alimenti gli spinaci tutto ciò che contiene acido folico beta carotene le barbabietole almeno tre volte la settimana che comunque migliorano la circolazione a livello del flusso ematico cerebrale lavorare su l'azzeramento degli zuccheri questo è un altro aspetto importante tecniche di meditazione tecniche di visualizzazione respirazione a quattro tempi la tactical briefing cioè queste componenti che non sono poche ci aiutano è chiaro che poi lavoro mentalmente perché se io ho un problema devo cercare di risolverlo e come lo risolvo è lavorando con la testa se il mio problema è la testa lavoro con la testa